Ieri sera è entrato nel nostro circuito detentivo un detenuto particolare appena arrestato, designato il carcere dell'Aquila nel 41 bis, un carcere che ha tutte le condizioni per essere di gestione di un detenuto particolare, un detenuto come tutti gli altri, in particolare con una grave patologia, un tumore al colon. Già questa mattina c'è stato un consulto medico, abbiamo fatto una riunione con le persone responsabili per seguire la parte clinica del detenuto e si sta provvedendo già al bisogno dei casi. Il carcere dell'Aquila è un carcere particolarmente efficiente, ha un circuito particolare del 41 bis dove sono uno dei pochi carceri italiani che anche la sezione femminile. Il carcere dell'Aquila di Costarelle ha subito prontamente attivato tutte le necessarie attenzioni per seguire il detenuto. Il carcere dell'Aquila ha una sezione con annesso area infermieristica perché per i nuovi provvedimenti dell'accedo ogni istituto di 41 bis è stato attivato delle procedure, procedure atte a garantire il diritto alla salute, come normato dalla Costituzione, dall'articolo 27. Come ogni detenuto che entra per la prima volta in un circuito detentivo si attiva la cosiddetta alta sorveglianza, per paura che ci possano essere delle crisi cosiddette a sindrome di Gassner, cioè quella sindrome crepuscolare in cui il detenuto che si trova disorientato in un nuovo posto in cui lo spazio è altamente ridotto possa indurre a suicidio. Quindi viene attivato una procedura interna che è ad opera di un servizio specializzato, quello del GOM, gruppo operativo mobile che serve proprio a gestire le persone che sono recluse nel 41 bis.